Per il parco eolico galleggiante Odra sono previsti più di 4 miliardi di euro di investimento, 90 turbine a largo della costa tra Otranto, Santa Cesare e Castro, operative per 30 anni e con una produzione stimata pari a 4 miliardi di kilowattori annui. Sono i dati che ufficializza la società che ha presentato il progetto e che adesso annuncia che è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale, dopo oltre un anno, spiega, di studi e ricerche. Il punto è che in quello stesso anno, parallelamente, i territori interessati dal progetto, ma anche i comuni limitrofi, hanno manifestato il proprio dissenso. Quelle pale avrebbero potuto essere immaginate altrove e prima di arrivare all'iter di approvazione le comunità avrebbero dovuto essere coinvolte, cosa che, hanno lamentato quest'ultime, non è affatto avvenuta. Cittadini, sindaci, amministratori a più livelli e ambientalisti sono scesi strada a manifestare la propria contrarietà già nel 2021 a Porto Migiano, rispondendo alla chiamata raccolta del Movimento Regione Salento. Lo scorso aprile, poi, in Consiglio regionale, una mozione presentata dal consigliere Pagliaro ha sollecitato la Giunta ad esercitare il diritto di riserva per preservare le aree di pregio nell'ambito del piano di gestione dello spazio marittimo. Un passaggio cruciale è questo, l'unico in grado di preservare realmente i mari salentini dall'assalto di offshore periodicamente in atto. E se è vero, infatti, che l'11 maggio, in risposta ad un'interrogazione di Pagliaro, l'assessore a Ramo Maraschio si disse pronta a sposare la battaglia a tutela dei mari, dall'altra parte è anche vero che le battaglie richiedono norme e limiti chiari per scongiurare una vera e propria colonizzazione di coste e acque di pregio, la cui unicità è riconosciuta in tutto il mondo. E arriviamo ad oggi. Con una nota ufficiale, la società Odra Energia spiega di aver sottomesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura la documentazione per attivare il procedimento di valutazione ambientale. Documenti che saranno resi disponibili nelle prossime settimane dai suddetti ministeri, per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati. Intanto Odra continua a rimarcare con forza la bontà del progetto, parlando di effetti positivi sull'approvvigionamento energetico nazionale, le economie locali e il fronte occupazionale. La partnership, scrive infatti, continuerà a lavorare su ulteriori opportunità di sviluppo locale, confrontandosi con i territori, gli stakeholder, gli esponenti delle industrie locali, le aree portuali e le associazioni di pesca. Confronto, si diceva, ad oggi non ravvisato proprio da queste categorie, il che significa che la battaglia può dirsi anche nel 2024, tutt'altro che conclusa.